Buongiorno a tutti, è un piacere essere qua al pari dell'Assemblea, a questo incontro con voi in presenza. Voi sapete che è abbastanza stile della casa, cercare di, anche in questo periodo complesso e complicato, cercare quanto più possibile di incontrarci di persona, perché comunque aiuta evidentemente quella che è la conversazione. Due cose, abbiamo appena terminato anche il Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea degli Azionisti ed abbiamo attribuito le cariche e i poteri, oltre alla riconferma mia e di Pavel in qualità di Presidente e Vicepresidente della società, dove personalmente, parlo non io, ma anche a nome di Pavel, siamo estremamente onorati entrando nel nostro dodicesimo anno in carica. Il Consiglio ha nominato Maurizio Arriva Bene quale amministratore delegato della società, quindi i poteri che sono stati attribuiti ai tre di noi sono equivalenti. Maurizio è l'amministratore delegato della società, credo che abbiate già, o se non ce l'avete ancora, in procinto di essere pubblicato il comunicato stampa, Maurizio in questa fase tiene anche le deleghe per quanto riguarda la parte di Managing Director Football Area. Io avete seguito l'Assemblea, quindi mi soffermerei su una parte molto breve a cui tengo particolarmente in questa fase, in questo momento storico della società. Avete sicuramente delle curiosità, delle domande alle quali risponderemo in merito all'operazione. Quello che secondo me è molto importante, quello che ho cercato di spiegare durante l'Assemblea era il contesto entro il quale l'industria si è mossa, quindi un contesto di crescita indifferente a qualsiasi accadimento esterno. E quindi in un determinato momento, quando abbiamo deliberato l'aumento di capitale nel 2019, la riflessione è stata, e l'avevo anche già spiegata qui all'epoca, era arrivato il momento di time to think big. C'è un cambio di paradigma, ma un paradigma che non vuole vedere un ridimensionamento, ma anzi vuole vedere un mantenimento della competitività sportiva, che poi sta alla base di qualsiasi discorso di una società sportiva, ma all'interno di questo bisogna iniziare un nuovo percorso di credibilità. E dico nuovo, e mi rifaccio a quelli che sono stati i risultati che la società ha ottenuto tra il 2014 e il 2018, fuori dal campo, i livelli di fatturato, EBIT aggregato, EBIT aggregato e risultati netti aggregati. Quindi un nuovo percorso di credibilità che si deve fondare su cinque dimensioni, si deve basare, si deve poggiare su cinque dimensioni. Quello finanziario, evidentemente, quindi con una sostenibilità finanziaria nel lungo periodo. E la parte più importante di questo è la previsione di un Investor Day nel corso del 2022, dove vorremmo comunicare alla comunità finanziaria delle KPIs sulle quali giudicarci in futuro. E per me questo sarebbe uno step molto importante perché saremmo i primi all'interno del nostro settore, della nostra industria, a comunicare obiettivi finanziari sulla quale poi essere giudicati. Questo è un elemento di forte credibilità. Un elemento di credibilità gestionale e quindi uscire da questo paradigma dove il fatturato è la dimensione principale dei risultati aziendali, ma è più quella dell'ebitda e quindi andare a concentrarci su quelle che chiamate le linee di mezzo, le focus on the middle lines, quindi quelle a maggior marginalità. Qui evidentemente veniva facile il turnover is vanity, profit is sanity, cash is king. Questa è un'industria che si autogiudica sul turnover e il turnover, il fatturato e vanità. E quindi andare a ritrovare risultati a livello gestionale che non siano legati a parametri di vanità. Abbiamo con le competenze e con i nuovi consiglieri, abbiamo annunciato un comitato ISG, i trend mondiali lo dimostrano, questo è un tema sulla quale come Juventus siamo stati attivi dal 2013 ad oggi, ma attivi in un contesto non ancora di sviluppo delle strategie aziendali tenendo conto di parametri ISG. Questo saremo sempre più attenti quindi alla socialità, all'ambiente e ai principi di buon governo. vogliamo mantenere sicuramente una leadership anche a livello politico, al netto di quello che è successo negli ultimi due anni, perché la storia secondo me è di due anni, mantenere un ruolo di leadership a livello di politica sportiva e evidentemente mantenere una solida competitività sportiva. I valori a cui ci richiamiamo sono i valori storici di questa società, di questa città, lavoro, obbligazione, sacrificio, disciplina. Lo ribadisco anche qui in questo momento perché è una definizione che mi ha molto colpita quando mi ci sono imbattuto da parte di Orianna Fallaci, quindi sui sensi della vita, che sono sensi che sono veramente molto allineabili alle vicende di una società come la nostra, di un campo calcistico, che sono amare, lottare, soffrire e vincere. Questo dobbiamo saper fare, devono saper fare tutte le donne e tutti gli uomini della Juventus nei prossimi anni. Vi lascio la parola. Grazie. Vi chiedo di alzare la mano, di presentarvi, se possibile di fare una domanda a testa e casomai facciamo un secondo giro se ci sarà tempo. Questo per dare modo a tutti di fare delle domande. Grazie. Guido Vacciago, Tutto Sport, buongiorno a tutti. Volevo chiedere, non so se al Presidente o a chi vuole rispondere, se c'è un'applicazione un po' più pratica, soprattutto da rivolgere ai tifosi, dei cinque punti, forse dell'ultimo in particolare, quella della competitività sportiva, che poi è forse quello che interessa o che stimola di più la passione delle persone. Quindi se è possibile sviluppare in modo più pratico quel punto dei cinque programmatici. Sì, faccio inizio io, poi lascio la parola a Pavel. Tanto mi sono dimenticato in questi giorni di chiamarti, perché ho visto in anteprima l'All or Nothing riferito alla stagione scorsa e devo dire che Guido sei stato un eccellente narratore di quelle che sono state le vicende. E quindi devo dire se tra i vari personaggi che abbiamo avuto, giocatori e quant'altro, la personalità spiccante di questa serie di tv sei stata tu nei vari momenti cruciali della stagione. Per quanto riguarda la competitività sportiva, siamo Juventus. Competitività sportiva per noi vuol dire vincere. Vuol dire ambire a vincere ogni competizione alla quale partecipiamo. Quindi il dogma della Juventus non cambia. Se noi guardiamo i risultati, ripuliamoli dal Covid, usciamo, ci proiettiamo alla stagione 22-23, quindi al termine di questa, il nostro livello di fatturato è un livello di fatturato sano. Ci riattestiamo intorno ai 450 milioni. Quindi diventa una capacità di saper impiegare le risorse disponibili sulla squadra. Quel livello di fatturato è un livello anche sufficiente per competere, ambire a competere a livello internazionale. Si tratta di avere poi le capacità di individuare le scelte migliori per competere e per vincere. Siamo la Juventus e nessuno di noi questo lo dimenticherà mai. Qui conta vincere. Questo è un discorso generale. Se la domanda scende sull'attualità, sapete che io dell'attualità mi sposto, voglio dire e lascio semmai a Pavel un commento su che cosa significhi in questo momento la situazione che stiamo vivendo. Grazie, buonasera. Io partirei un po' più da dietro. Noi diciamo che abbiamo avuto dei successi con la squadra dove abbiamo avuto dei giocatori con età avanzata. Credo due anni fa abbiamo cominciato a cambiare un po' la squadra. Abbiamo cercato di ringiovanirla pur cercando di mantenere il risultato sportivo che ovviamente non è così facile quando inserisci dei giocatori molto giovani. Ma sapendo che l'unica cosa che conta è il risultato è la vittoria. Perciò siamo perfettamente consapevoli e sappiamo che cosa dobbiamo fare. Lo sa il mister, lo sa il staff tecnico, lo sappiamo tutti intorno a lui e lo sanno pure i giocatori. Questa società c'è là nel DNA la vittoria e lo sanno tutti e lo stiamo inseguendo. Abbiamo delle difficoltà perché abbiamo avuto un periodo molto bello, ultimo. Ultima partita diciamo che non è andata come speravamo ma non c'è tempo di pensarci. e ce n'è già domani un'altra perciò subito ripartire e fare il risultato. Questo ecco conta. Salve Usain e Binsports. Domanda per il Presidente. Volevo sapere se questo periodo su tutti i livelli è il più difficile della sua gestione e perché? No, non è il più difficile secondo me. Però è un momento difficile, questo sì. Credo che il più difficile è stato il periodo in cui sono arrivato nel maggio del 2010. Quello è stato un periodo estremamente complicato dove c'era da ricostruire una cultura aziendale. Oggi una cultura aziendale esiste. C'è da gestire un'espansione e una trasformazione da mera società sportiva, anche perché organizzata e quotata in borsa, a una propria corporation. E quindi da questo punto di vista c'è stata una crescita rilevante anche in termini di full time equivalenza all'interno dell'azienda che ha reso questo processo complesso. Abbiamo aumentato il livello di professionisti sportivi con l'inserimento dell'Under 23 e la squadra femminile. Quindi abbiamo giunto complessità anche a livello sportivo ma complessità che ci stanno dando le nostre soddisfazioni. Qui credo che veramente il grosso delle difficoltà siano dettate da una presa di consapevolezza da parte dell'industria del momento che sta attraversando. Il piano che abbiamo approvato nel 2019 era un piano espansivo. Quindi all'interno di un piano espansivo determinati risultati a cui andavamo incontro erano presi in considerazione. Usciviamo da un ciclo di investimenti di circa mezzo miliardo tra il 2018 e il 2019. E quindi a noi il Covid ci ha colpito veramente nel momento peggiore che ci potesse colpire. e quindi è stata la tempesta perfetta. Però no, non è il momento più difficile. È un momento secondo me entusiasmante ed emozionante nelle complessità e nelle sfide che questo momento ci dà. Ma non è il più difficile. Buongiorno, Giovanni guarda la Sky Sport. Visto che volevo fare una domanda di attualità legata al calcio vado direttamente da Nedved e chiedo avete appena detto vincere è sempre l'obiettivo e il dogma di questa società. In questo momento avete circa la metà dei punti di quelle due che stanno in vetta. Con questa rosa chiedo a Nedved se è normale questo rendimento e se, visto che nella storia del calcio 13 punti dopo 10 giornate non le ha mai recuperate nessuno, se credete ancora nello scudetto, se è normale ancora parlare di scudetto oppure se dovete cambiare gli obiettivi di questa stagione. Grazie. Io mi allineerei con un allenatore che ha detto che parla di scudetto e dei obiettivi. Questo momento diventa difficile. Credo che noi in questo momento dobbiamo pensare alla partita alla volta, dobbiamo pensare e guardare avversari quelli che stanno davanti a noi, dobbiamo cercare di recuperare posizioni ma parlare obiettivamente di obiettivi in questo momento diventa difficile. Abbiamo meno punti però dobbiamo pensare che sono passate solamente 10 partite e che ci rimangono veramente tante partite da giocare e si può recuperare tranquillamente. Buonasera, Luca Bianchia in Gazzetta dello Sport. Lascio a voi la domanda, ovviamente decidete chi è più opportuno e mi rispondo. La domanda guarda gli investimenti futuri, quindi fondamentalmente calcio-mercato. È chiaro che un'operazione come quella di Cristiano Ronaldo non è più ripetibile. Mi chiedo se sia ripetibile un'operazione diciamo alla Delict, quindi con un investimento intorno, nel suo caso furono 75 milioni, ma diciamo tra i 50 e i 70 milioni, il nome che si fa ovviamente al nostro livello è Vlaovic, ma di questo immagino non vorrete parlare, o se sì volentieri, oppure se questo investimento è fattibile soltanto con cessioni o operazioni di altro genere. Grazie. In questo caso rispondo io. L'operazione Cristiano Ronaldo ha portato grandi benefici, secondo me, dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista dell'immagine, non solo di Juventus, ma pochi ne hanno parlato, anche del calcio italiano. Perché voglio dire, la presenza di Ronaldo ha garantito comunque un asset importante anche al sistema calcio italiano. E' ovvio che con la partenza di Cristiano Ronaldo si aprono altri scenari e altri temi. Un ragionamento che riguarda la parte sportiva. E' ovvio che parte un grandissimo campione. Quali sono gli effetti che può avere sulla squadra? Un grandissimo campione non solo porta i gol, che è la cosa di cui parlavano tutti, però in assenza sua c'è chi segna comunque, chi dovrebbe segnare comunque, vedi Benzema nel Real Madrid. La vera mancanza è la presa di responsabilità. Un grande campione si porta sulle spalle anche molta delle responsabilità della squadra. Quindi, secondo me, dove il Ministro sta lavorando, dove dobbiamo tutti lavorare, è abituare la squadra a ricaricarsi sulle spalle questa responsabilità, farla propria e lavorare di squadra. Riguardo al mercato, voglio dire, ci sono state alcune critiche sul mercato estivo, evidentemente critiche partite dal fatto che si si è dimenticati troppo in fretta di quella che era la situazione economico-finanziaria della società, ragion per cui sono state fatte delle scelte di mercato oculate, cosa che sarà fatta anche in futuro. Per noi le prestazioni sportive sono fondamentali, perché una crescita sostenibile che guardi al futuro della società significa anche una riduzione dei costi, più che riduzione, efficienza nei costi, e competitività sportiva. Quindi non è sempre facile trovare questo bilanciamento, ma è quello che intendiamo fare, senza dimenticarci che il sistema funziona nel momento in cui vinci. Nel momento in cui vinci, tutto ciò che fai risulta più facile, più effective. Però, voglio dire, tutto parte comunque da lì. Buonasera, Gianni Dragoni, solo le 24 ore, sono qua. Volevo chiedere, con questi risultati, come siete messi col rispetto del fair play finanziario? Avete comunicazione che siete fuori, perché non vedo come sia possibile rispettarlo? E poi avrei una domanda sui debiti, se si può fare dopo, altrimenti... Sì, poi lascio a Stefano Cerrato, che è il Chief Corporate Officer della società, i dettagli. Mi spiace deluderti, ma per quanto riguarda la stagione 22-23, non ci sono problemi sul financial fair play. Non ci sono problemi. Sulla 23-24... No, non ci sono. No, non sono deluso. Mi sembravi, non vedo come possiate. Dico, purtroppo sul 22-23 siamo a posto. Domanda, risposta secca. Poi se Stefano vuoi dare dei dettagli in più, per quanto riguarda i parametri, sul 23-24 dovremo valutare bene e capire anche quali saranno le nuove impostazioni del financial fair play, che in questo momento comunque a livello UEFA è allo studio. quindi ci saranno dei nuovi parametri e quando sapremo esattamente quali sono valuteremo il 23-24. Sul 22-23 non abbiamo nessun problema. Buongiorno, Fabrizio Ferrero Mediaset. Volevo chiedere qualche cosa in più su quello che sta succedendo sulle indagini che ci sono sulle plusvalenze, Piani, Chartur e altri casi, che ovviamente oltre alla Juventus ci sono anche altre squadre coinvolte, ma ci siete voi in particolare. Se dovrà cambiare anche qualcosa nel vostro atteggiamento sul mercato, qualcosa in più su questo. Per quanto ci riguarda, noi siamo assolutamente rispettosi delle indagini che sono in corso in questo momento da parte di Consob, stiamo collaborando, tutte le informazioni di cui ho necessità sono state loro date. Tra l'altro ricordo a tutti i presenti che ogni operazione price sensitive da questa società, essendo quotata in borsa, è comunicata. Ogni operazione che non è price sensitive comunque trova riscontro all'interno dei nostri bilanci, bilanci che sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione. Quindi massima collaborazione con le autorità che stanno portando avanti questa indagine, ma anche assoluta e massima serenità da parte nostra per quanto riguarda Juventus. Buonasera, Gabriella Monica e Fedal Jones. Una domanda, lei prima ha detto che il fatturato è vanità. Nel corso degli anni scorsi una buona parte di questo fatturato era data dalla voce 3D Incalciatori, che in effetti è stato sempre giudicato anche molto massivo da parte del... Ci sarà un'inversione di tendenza nel prossimo futuro, quindi farete meno operazioni? sul numero di operazioni anche qua bisogna ognuno deve valutare bisogna valutare le singole società. Ricordiamoci che noi oggi abbiamo due squadre professionisti, quasi tre, l'Under-19 sono tutti professionisti, quindi la Juventus ha in rosa circa 75 adesso giocatori professionisti. Pensare che dei 25 semplifico il discorso ogni anno 25 entrino in prima squadra oltre al normale fisiologico ricambio dei giocatori in prima squadra la vedo difficile, quindi il numero di operazioni che questa società continuerà a fare sarà un numero di operazioni oggettivamente importante ma perché è importante la base di partenza. Io reputo fisiologico e questo avremmo avuto dei discorsi con Dragone in passato sulla validità o meno di questo, io trovo che una parte del trading canciatori faccia parte della gestione caratteristica di una società, non ipotizzarlo sarebbe sciocco quanto meno. Siamo anche in un contesto dove si è passati da un valore del mercato dei trasferimenti di 6 miliardi e mezzo nel 2019 a un mercato da 3 miliardi nel 2021 quindi abbiamo perso circa il 55% del valore dei calciatori delle operazioni riferite al mercato dei calciatori quindi questo andrà tenuto conto secondo me se ci sarà un'oggettiva presa di consapevolezza e coscienza da parte del settore tutto questa deve dovrà essere un'area dove non andare a creare eccessiva inflazione che deve essere accostata da una presa di consapevolezza da parte degli attori principali e quindi una gestione più sana dei parametri zero se chi chiede cifre enormi e si ha una società che cerca di combattere questo tipo di comportamento passano dei competiti stranieri e che hanno abbondanza nel ruolo e riconoscono le valutazioni richieste dei giocatori ecco che sarà più difficile invece avere quel tipo di disciplina per quanto riguarda quell'aspetto credo che questo risponda alla domanda Sì buon pomeriggio Presidente Giovanni Albanese Sport Italia le chiedo alla luce della situazione economica attuale quando è ipotizzabile la realizzazione del progetto ministadio per l'Under 23 e le women e se effettivamente per voi questa è una priorità grazie il discorso del ministadio fa parte per il momento di di quelle che sono le necessità future ma anche dei desideri futuri della società tenendo conto di delle priorità che avremo da risolvere che avremo in futuro detto ciò credo che un progetto interessante sia quello non solo di proporre uno stadio per le giovanili per la squadra femminile l'Under 23 ma soprattutto proporlo in maniera diversa uno stadio che si è progettato con dei parametri che siano in linea con l'ecosostenibilità rispetto dell'ambiente e soprattutto l'utilizzo anche al di là degli eventi degli eventi sportivi quindi uno stadio che non solo ospiti le squadre ma anche uno stadio che possa ospitare altro tipo di eventi buon poveriggio Marco Sacchi Calcio e Finanza sono qua volevo fare una domanda sul tema Superlega lei ha detto che giustamente ci sarà da aspettare la pronuncia della Corte di Giustizia quindi vado un po' più in là e mi riferisco alla Champions Post 2024 mi chiedo se insomma anche vedendo quello che è accaduto da partire da aprile lei si aspetta una governance dal punto di vista economico che coinvolga maggiormente i club e se si aspetta più protezione anche per i club insomma più importanti considerando che appunto sono quelli che poi volevano un pochino uscire dal da quello che è il sistema attuale appunto niente considerando quello che è insomma che è il panorama che si può prospettare dopo insomma la fine del ciclo attuale grazie all'auspicio noi avevamo portato sostanzialmente a compimento un buon lavoro al 17 di aprile 18 di aprile e la nostra chief people che qua in prima fila che all'epoca era in ECA può confermarlo che è stato un lavoro estenuante portato avanti in 4-6 mesi tra l'autunno del 2020 la primavera del 2021 che dava una buona impalcatura di gestione dei diritti commerciali delle competizioni internazionali a quanto mi risulta dovrebbe arrivare in firma questa joint venture che sarebbe per ECA sicuramente un ottimo risultato un buon risultato è un risultato che soddisfa le varie dimensioni di cui necessita l'industria non credo però è sicuramente un buon risultato le tutele credo che nessuno di noi cerchi tutele non abbiamo bisogno di tutele come club grandi medi o piccoli ma quello di cui abbiamo tutti quanti bisogno è un ambiente sostenibile entro il quale operare io spesso lo dico tra le poche cose che sono cambiate una è stata secondo me a mio giudizio da un punto di vista di creazione della competizione eccellente poi ha aggiunto fatica ai calciatori ma è la Nations League la Nations League è una competizione straordinaria secondo me perché ha posizionato le nazionali europee in contesti omogenei tra loro e quindi Gibilterra San Marino è una partita da risultato incerto così come lo è Germania Francia e trovo che l'esercizio della Nations League sia un esercizio fantastico da questo punto di vista auspicare un modello analogo per i club sarebbe il minimo che uno possa auspicare in questo contesto quello che mi auguro è che si arrivi alla definizione di un'architettura sostenibile questo è l'elemento chiave la parola sostenibilità perché poi l'ho detto in assemblea e lo ribadisco qua voi scrivete commentate le nostre vicende e di questo fate sì e siete la testimonianza dell'interesse che le vicende di questa industria hanno parlate con tantissimi protagonisti e al di là del mero risultato del momento in linea di massima quasi tutti per non dire tutti perché il 100% non è mai una statistica reale quasi tutti sono insoddisfatti del sistema entro il quale operano se c'è un così alto livello di insoddisfazione evidentemente c'è anche una necessità di intervento grazie buonasera crediamo e vogliamo dare ai giocatori il massimo interventi a gennaio li valuteremo se ci saranno delle possibilità ma credo che nostra rosa è di valore assoluto per poter attaccare i primi posti ci avviamo alla conclusione avevo una domanda un chiarimento sui debiti perché anche poi nel prospetto per l'aumento di capitale cioè nel bilancio c'è un dato classico dell'indebitamento finanziario netto che è poco meno di 400 milioni 389 milioni ma viene riportata anche solo in una tabella senza commenti il dato in base al criterio della raccomandazione ESMA l'autorità europea dei mercati finanziari secondo cui invece l'indebitamento consolidato netto è 515 milioni quindi la differenza è notevole io una differenza di questo tipo l'avevo trovata finora solo nel bilancio di una società che non può essere annoverata al top per la sostenibilità economico-finanziaria che è l'AS Roma allora mi ha un po' colpito vedere questo sulla Juventus e chiedo comunque una spiegazione un commento di questa divergenza la lascio a Stefano la lascio a Stefano con una premessa sarebbe utile che tutte le società tra l'altro pubblicassero dati omogenei e anche tempestivi ma essendo quotati infatti questo tipo di supplemento di informativa è stata fornita solo recentemente da parte delle società quotate di fatto va a includere in un indicatore di indebitamento anche dell'indebitamento di natura non finanziaria ma commerciale quindi importi che verranno poi pagati nei successivi trimestri ma che non hanno natura finanziaria quindi secondo i principi contabili internazionali l'indebitamento è quello che è esposto nel bilancio questo è un supplemento di informativa che è stato suggerito per dare visibilità a tutti gli investitori di quello che sono gli esborsi che si verificano non solo per aspetti meramente finanziari ma anche per debiti di natura più commerciale quindi un tecnicismo introdotto da poco che viene applicato solo alle società quotate ma il valore dell'indebitamento finanziario del bilancio è quello rappresentativo di dati omogenei con quello di tutte le altre società confermate lo ciclo di 389 assolutamente le ultime due Gallo poi Pollina se non sbaglio sono qua sulla vostra destra un discorso che sta molto a cuore soprattutto ai tifosi quella che noi abbiamo raccontato forse magari anche impropriamente come una telenovela volevo sapere se davvero siamo alla fine che riguarda il futuro di Paolo Di Bala Vado io Maurizio No diciamo che siamo un buonissimo punto con con Paolo Di Bala siamo molto contenti che lui sia rientrato anche in buonissima forma a giocare le partite aspettiamo un attimo e cerchiamo di concludere questa operazione ma come dicevo prima siamo un buonissimo punto Elvira Pollina di Reuters durante l'assemblea è stato fatto cenno alla sentenza della della Corte UE come passaggio per decidere eventualmente dopo qualsiasi prossimo step riguardante la Superlega ragionevolmente vi siete fatti un'idea di quando potrebbe arrivare a questo momento e se ne sta discutendo di state discutendo fra di voi fra i club sul da farsi normalmente i giudizi della Corte giustizia europea sono nell'arco i 12-18 mesi quindi siamo partiti in aprile verosimilmente questo sarà uno di quelli più lunghi quindi stiamo ragionando più sui 15-18 mesi che non sulla forchetta alta che non sulla forchetta bassa dopodiché è stato un passaggio che mi avete sentito fare l'altro passaggio era auspicabilmente voglio dire potrà riprendere una forma di dialogo che portino un'individuazione da parte degli industri sulla creazione di un di un sistema più sostenibile e questo poi guardiamo alle competizioni internazionali ma guardiamo le competizioni domestiche guardiamo le competizioni minori sono veramente tanti gli elementi che possono portare ad una soluzione di maggior sostenibilità l'ho detto in assemblea lo ribadisco qui quello che diventa estremamente complicato è quando si hanno soggetti con interessi così disomogenei tra loro che però entrano in consessi in cui prendono decisioni comuni diventa estremamente complicato trovare la formula corretta perché la sostenibilità per uno non necessariamente è la sostenibilità per l'altro è per questo che faccio riferimento alla Nations League come un esercizio riuscito al 110% grazie abbiamo concluso grazie a tutti grazie della vostra presenza qua grazie mille a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti